Raga, prima di cominciare il video volevo dirvi che cominciamo la serie di Clash of Clans, oltre a quella di Minecraft Pocket Edition. Per supportarla lasciate un bel pollicione in su. Grandi raga, siamo già a 70 iscritti. Vabbò, via con la intro! E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Rexboom ed oggi siamo sul primissimo episodio di Clash of Clans. Guardate che bel villo che ho. No, non è vero. Lo miglioreremo piano piano insieme. Prendiamo tutte le risorse che abbiamo. Ok. Ok, può andare bene. E cos'è questa cosa che sta qui? Questo tronco? Così tanto per... No, no, eliminiamolo. Ma cosa c'è? Un raduno, vanno tutti lì. Cioè, guardate raga. Ora che lo tolgo... Niente, rimangono lì a battere le mani. Che bello! Vabbò. E questo è il mio villo ragazzi. Io su Clash of Clans mi chiamo, come sempre, Rexboom. Sono a livello 23, ho 1029 coppe e ci addestriamo un po' di truppe perché sinó non andiamo avanti qui. Perché io su Clash of Clans sono un nabbone, lo dovete sapere. Sono veramente un nabbone su Clash. Quindi supportate questa serie per vedere quanto sono un nabbo anche sugli attacking war. Allora, richiediamo un po' di rinforzi. Mettiamo help me please. Perché noi non siamo americani ma facciamo vedere che siamo Agab. Ecco qui. Però doniamo anche noi a loro perché sinó non ci donano un bel cavolo. Dai, forza, tutto. Ho bisogno di rinforzi. Anche a Mattia doniamo. Poi, vediamo se sotto c'è gente che chiede... Eccolo, ho visto qualcuno? No Goblin. Ok, allora Barbari e Alceri vanno bene. Ok. E ok, non c'è più nessuno che chiede. Meno male. Possiamo andare avanti. Abbiamo un messaggio. Comunque ragazzi, questo è il mio clan. Si chiama Roman Empire. Ci sono tutti questi membri. Guardate le ex boom sono. Io infatti sono troppo sexy. E questi sono tutti i membri del clan. Gli altri membri. Mamma mia che bel villo ora che lo sto vedendo. No, non è vero. Chi accetta 0-7-9 sarà espulso? Vabbò, la tua difesa ha perso. Perché calcolate che prima avevo un villo scarso. Questo è nuovo nuovo proprio creato da poco. E quindi ora hanno anche paura di attaccarmi. Non mi sta più attaccando nessuno. Questa è la war. Vabbè, sta andando male. Un pochettino sta andando male ragazzi. Perché ci sono capitati avversari molto forti. Cioè guardate 25 a 2. 25 a 2. Come si può? Ma io dico il più forte del clan. Potrebbe attaccare anche tipo il primo per prendere 3 stelle così. Sai, vabbò. Si spreca l'attacco. Però tanto ormai abbiamo perso. Vabbò. E... Ok. Abbiamo tutte le truppe. Andiamo ad attaccare. No, questo villo no. Lo vedo subito. Dai, ricerca avversario. Questo... Sì, si può fare. Ok, attacchiamo subito dal castello del clan nel laboratorio. Con i barbari. Ok. Ok. Forza. Io prima ero un pochettino nabbo. Più nabbo di ora. Perché attaccavo prima... Le mie truppe sono aceri e barbari in genere. Attaccavo prima con tutti aceri. Tipo così. E poi iniziavo con i barbari. Poi un mio amico. Che ringrazio molto. Vi ha detto che prima devo attaccare con i barbari. Così tutte le loro difese vanno ad attaccare i barbari. Che sono più resistenti degli aceri. E poi attaccano gli aceri. Non ci poteva arrivare io? No. No, no, no. Una stella? Dai. Se faccio tre stelle like solo per quello. Scudo dell'avversario attivato per 14 ore. Vabbè dai. Ce la dobbiamo fare. Dai. Dai. No. Ora se attaccano il municipio. Ecco. Me ne devo andare. Perché attacco? Ok. No, 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 no. Hanno fatto bene. Due stelle. Forza attacchiamo questa torre degli aceri. Ragazzi. Roman Empire. Il mio clan sarebbe il clan anche di Exodus e Napoleone. Che ringrazio molto per avermi ospitato in questo bellissimo clan. Perché mi ci trovo veramente molto bene. Però il brutto è che non so se poi abbandonerò per creare un clan con tutti quanti voi. No, no. Però credo che rimango il Roman Empire. Vabbò. No, no. Rimango quello. Perché solo perché c'è Exo e Napo. Che mi sostengono e mi devono donare molte truppe. Vabbè, vero? No, scherzo. Bonus stella. Mamma mia, ma siamo a cabosi. Dai. Troppo bella questa parola. A cabosi. Allora. Ho bisogno di rinforzi. Un'altra volta. Vabbò. Noi doniamo tutto. Ragazzi. Io sono uno di quelli che dona di più nel clan. Quindi se chiedete, se entrate e chiedete qualcosa, Rex Boom sta qui per donare a voi. Ok, mandiamogli. Però loro non donano mai a me. No. No, 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 no. Fermi. Fermi. Dove andate? Dove andate? No. Vabbò. Sono diventati vagabondi così. Allora. Allora. Vuoi raccogliere le risorse? No. Guarda. Sì, certo. Riempiamo il tutto. E volevo comprare la bandiera dell'Italia. Ora vediamo sulle decorazioni. Così se mi venite a visitare, vedete con la bandiera italiana. Così sapete che sono agab e sono italiano. Lel. Bandiera nazionale. Eccola qui. Eccola. Dai. La compro. Raga, la compro. Vabbè, dai. La compro. Che cavolo ce ne frega. Ho ancora tutti i soldi. Ah, la devo posizionare. È vero. Dai, dai. Dove la posizioniamo? Qui. Però ora la mettiamo bene. Spostiamo questo e ci mettiamo la bandiera italiana. C'è qualcosa che non mi convince. No, la metto lì sopra. Ci starebbe molto meglio. Qui la mettiamo. Eccola. Eccola. Qui. A posto, ragazzi. Stiamo messi molto bene. Ok, ragazzi. Il video è finito. Come sempre, commentate, iscrivetevi, mettete un bel like e ciao. Ciao. Grazie a tutti.